Sapevamo che dovevamo fare una partita di questo livello, vincendo lì loro dovevano venire qui a fare la partita. Non ti nego che soprattutto il primo tempo a sfavore di Vento abbiamo anche sofferto stando molto bassi, però alla fine come detto tuo sacrificio, voglia, determinazione, unità di intenti, gruppo, tattica e chi più ne ha più ne mette hanno fatto sì che raggiungessimo questa finale che sotto tutti i punti di vista ce lo siamo meritato. E' un traguardo meritato, dice Gigi Panarelli, quello della finale nazionale dei play-off di eccellenza, non con le parole ma con i fatti, specie nella gara d'andata contro la Ciriale, giocata in trasferta e vinta con il punteggio di 2-1. Risultato che poi è stato gestito magistralmente dal team Altamura nella partita di ritorno e è bastato lo 0-0 al D'Angelo infatti per estromettere i siciliani e accedere alla doppia finale degli spareggi promozione. I murgiani in pratica si sono limitati a gestire il vantaggio dei primi 90 minuti e fatta eccezione per questo intervento eccellente di Petruzzelli in pieno recupero non hanno mai corso particolari rischi. Missione compiuta dunque, obiettivo centrato. Orgogliosa sempre più di questi ragazzi che adesso hanno ritrovato una compattezza, una brillantezza di gioco, eravamo consapevoli che partivamo in vantaggio, per fortuna siamo riusciti a mantenere a testa alta questo risultato. Onore però alla Ciriale perché con la capabilità fino all'ultimo secondo ha fatto quello che poteva, onore alla sua società, sono stati qua con noi ospiti in piena veramente armonia e onore anche a tutta la tifoseria che sia nostra che della Ciriale ha vissuto con molta impace questa partita. Il team Altamura in pratica ha migliorato il risultato dello scorso anno quando fu eliminato dal Real Metapontino nella semifinale dei play-off nazionali. Ora invece si giocherà la promozione in Serie D nella doppia sfida contro i campani del San Giorgio. L'anno scorso ci siamo fermati proprio alla semifinale nazionale contro la Basilicata che era il Real Metapontino. Quest'anno ci siamo riprovati con me in panchina da quattro mesi, ci è andata bene e l'abbiamo meritato in tutto e per tutto. Adesso ci andiamo a giocare questa finale che non è facilissima perché due squadre che arrivano in finale hanno dei valori e gli episodi possono condizionare un'intera stagione. La partita d'andata è in programma domenica prossima a partire dalle ore 16.30 al D'Angelo di Altamura. Il match di ritorno invece è fissato sette giorni dopo alla stessa ora a San Giorgio a Cremano. In Serie D, almeno attraverso la porta principale, c'è posto soltanto per una delle due contendenti.